Devi stare comoda per poter lavorare. E' una candela che si è avvita. Mi devi spacchettare come una caramella. Io sono una caramella, il centro della caramella del nodo è questo qui, che devi cercare di trasformare. E i fiocchi sono i piedi e la testa, quindi devi spacchettarmi. Sì? Sì. Sì. Sì, ok. Mi manca solo un po' di ritmo. Sì. Adesso lo devo fare anche dall'altro lato? No, vieni dall'altro lato, lo fai dall'altro lato. Perché lui quel corpo ha bisogno di simmetricare. Ok. Ok. Ehm. Ehm. Di là mi veniva di quando mi viene qui. Per cazzo l'ero pazzo. Ehm. 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 però se ci metti il ritmo la persona non lo sente, perché se ci metti del ritmo una palla lavora con i glutei, prima chakra, e lavorando su questa cosa ora faccio vedere quello che vorrei che faccio vedere, lo signo io devo fare di qua e di là, quindi senza farti una terra quindi devo mandare te di là, ok, in contemporanea però, quindi è una cosa così se ti facessi la foto adesso, così con le ali, sarebbe la perfezione della via guarda, ecco con lei, tu che fai così, anzi questa costurazione la chiamiamo con il tuo nome Elena la costurazione Elena adesso tu provalo tu ok